Il Ministro del Turismo Vittoria Michela Brambilla ha presentato mercoledì scorso a Palazzo Chigi uno spot promozionale della durata di 30 secondi allo scopo di attrarre i turisti in Italia attraverso una carrellata di meravigliose immagini che descrivono alcuni dei monumenti più rappresentativi dell'architettura italiana nel mondo. A commentare lo spot uno speaker d'eccezione, il Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi. Conoscere meglio l'Italia, la tua magica Italia. Ed in merito all'iniziativa promossa dal Ministro Brambilla esprime soddisfazione l'assessore regionale al turismo Nino Strano che dichiara testuali parole. Voglio ringraziare il Ministro Brambilla per aver inserito nello spot di 30 secondi che illustra le bellezze dell'Italia le splendide immagini della Valle dei Tempri di Agrigento, uno dei luoghi simboli della Sicilia del mito. Noi abbiamo attentamente visionato il video ma non abbiamo visto nessun tempio appartenente al Parco archeologico della Valle dei Tempri di Agrigento. E ci risiamo. Dopo la cantonata di Cantone, il direttore artistico della Sagra del Mantolo in Fiore che per l'edizione 2009 aveva messo nei manifesti pubblicitari le immagini del Tempio di Segesta anche l'assessore regionale Strano ha confuso i due templi gregi. Quello che si vede nello spot infatti è ancora una volta il Tempio che si trova in provincia di Trapani. Gli agrigentini ringraziano l'assessore Strano per aver pensato subito alla Valle dei Tempri ma naturalmente non possiamo accettare le dichiarazioni volte a promuovere un luogo che non è il nostro. Che direbbero i cugini trapanesi?